Ehi, bentornati su Breaking Italy. Ieri non c'eravamo e ci siamo persi il commento degli eventi meravigliosi che hanno caratterizzato questo weekend, no? In cui la principale notizia, lo sappiamo tutti, è stato l'assalto di un gruppo di no fascisti di forza nuova alla sede della CGL a Roma. Quello che è successo, sostanzialmente, è che sabato 9 erano in programma una serie di manifestazioni nelle maggiori città italiane, persone partecipate in generale da persone che sono contro il Green Pass e contro il governo, per tutta una serie di ragioni, direi. Da quelli che vedono in questo governo una deriva autoritaria, e nel doversi quasi obbligatoriamente adottare di Green Pass come una sorta di profilazione, a quelli che seguono i complotti, le teorie parascientifiche, che in generale sono contrarie alla vaccinazione, ad esponenti del movimento IoOpro, c'erano anche quelli, cioè quegli esercenti che protestavano per le chiusure dei locali e che ora protestano i mezzi che hanno permesso loro di riaprire, e ancora gruppi no fascisti, che soprattutto a Roma tendono a occupare qualsiasi spazio politico per metter loro di porsi in maniera antagonista rispetto a qualcuno. In questo caso, il governo. Tutti assieme appassionatamente, e le immagini le abbiamo viste. A un certo punto, Giuliano Castellino, personaggio legato all'ambiente romano di Forza Nuova, sale sul palco e arringa i presenti, invitandoli a dirigersi verso la sede della CGL, rea di non aver preso le parti dei lavoratori, invitando quindi il governo ad abolire il Green Pass. Alcune di queste persone, quindi, quasi tutti uomini, qualcuno mezzo nudo, sfondano gli ingressi, si infilano all'interno, sfasciano tutto. Il leader del movimento IoApro si fa addirittura il video selfie, mentre all'interno dei locali, cosa che ne faciliterà l'identificazione, quando poi saranno eseguiti 12 arresti tra i leader della protesta, e insomma, si ricomincia a parlare, a livello nazionale, del partito neofascista Forza Nuova e della possibilità di chiuderlo. In questi giorni alla sede della CGL sono andati moltissimi politici di sinistra e centrosinistra. E' andato il presidente Mattarella addirittura, ed è andato anche Draghi, in ultima battuta, portando la sua solidarietà al leader del sindacato, Maurizio Landini, e promettendo poi a tutti che non ci sarà nessuna tolleranza contro intimidazioni ed episodi di violenza. Saprete anche che invece la destra non si è sbilanciata, anzi è rimasta molto cauta, cercando di descrivere i personaggi in questione come delle sorte di infiltrati in un corte o altrimenti legittimo, serio e pacifico, e Giorgia Meloni ha fatto un po' il giro delle pagine dei meme con la sua affermazione in cui, pur affermando che lo squadrismo e la violenza vadano combattuti sempre, diceva di non conoscere la matrice, invece dichiaratamente fascista, di questi gruppi violenti. Ah, e poi c'è stato l'assalto al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, con il personale medico preso a bottigliate, anche lì, tutto normale. Insomma, riassunto finito. Cosa succede oggi? Succede che quando io ho sentito nei giorni scorsi che Forza Nuova dovesse essere finalmente chiusa, che è una roba che si dice da sempre, sia per questo gruppo politico che per Casa Pound, altra organizzazione piuttosto nota, e che la sinistra, a partire dal segretario del PD Letta, ne chiedesse a gran voce lo scioglimento, ho detto, ok, va bene, domani, visto che è sostanzialmente tutta la vita che sento parlare di questa chiusura forzata di questi gruppi. Ieri però in serata è arrivata la notizia che la Procura di Roma ha avviato dei procedimenti nei confronti di alcuni dei personaggi che ho citato prima, e di Roberto Fiore, lo storico leader di Forza Nuova, e che il sito del movimento è stato sottoposto a sequestro preventivo, probabilmente a causa di imputazione. I leader in questione sono infatti alcuni dei firmatari di un comunicato successivo agli assalti, in cui si parla del popolo, cioè loro, che ha alzato il livello dello scontro e che non si fermerà. Parole che vengono inquadrate nella cornice del reato di istigazione a delinquere. Poi le imputazioni pagliano ad essere un po' di più in realtà, ma semplifichiamo. E istigazione a delinquere. Ovviamente non è tanto questo ad agitare i partiti, ora ci arriviamo, quanto la possibilità che davvero Draghi, e non solo la Procura di Roma, si mobiliti per fare qualcosa. Oggi i giornali italiani danno ampio risalto a una possibilità di cui si è parlato altre volte in passato, ma mai con questo slancio che io ricordi. C'è che Draghi, come capo dell'esecutivo, utilizza una procedura che gli è conferita dall'articolo 3 della cosiddetta legge scelba. Cioè, una legge del 52 che serve proprio a punire chiunque persegua finalità antidemocratiche proprie del partito fascista. Non punisce i generici violenti, non punisce gli uri, gas, gente che passa di lì, punisce i fascisti, proprio perché la carta costituente è stata scritta da forze politiche che hanno vinto lo scontro con il fascismo. Ora, l'articolo 3 dice chiaramente che qualora consentenza, quindi si intende in un tribunale, risulti accertata la riorganizzazione del partito fascista, il ministro per l'interno ordina lo scioglimento e la confisca dei beni. Questa cosa successe ad esempio negli anni 70, quando fu sciolto ordine nuovo, e poi altre due volte sino ad arrivare al 2000, con anche Avanguardia Nazionale e Fronte Nazionale, che è un nome molto comune, che subirono la stessa sorte. Quindi non è una grande novità. La vera novità è che quel famoso articolo 3 prevede anche che in casi straordinari di necessità, si legge, possa non esserci il passaggio in tribunale, ma il Consiglio dei Ministri e successivamente il Parlamento, con la conferma, possano disporre lo scioglimento del partito fascista o neofascista anche soltanto tramite un decreto legge. Cosa che è un pelino controversa. Sia chiaro, quasi tutti i partiti si sono detti, chi con più entusiasmo e chi meno, ovviamente, d'accordo ad appoggiare le varie emozioni che in Parlamento sono state presentate a favore dello scioglimento di Forza Nuova, dal PD a Italia Viva, che ne hanno presentata una ciascuno, ovviamente, al Movimento 5 Stelle. Persino, a sorpresa, il partito di Giorgia Meloni, fratelli d'Italia, dopo un iniziale tentativo di vittimismo di quelli ai quali ci siamo un po' abituati, tipo, eh, lo fanno perché ora vogliono chiudere anche noi, si è preso poi in serata che voterà a favore, probabilmente come estremo tentativo di ribadire la propria lontananza dai movimenti fascisti, specie in un momento in cui in tanti recriminano il partito di ammiccare verso questo variegato mondo di nostalgici aficionados del regime. L'unica da aver espresso qualche dubbio in più è stato Salvini, che ha parlato dell'assenza di un reale pericolo fascista in Italia e ha attribuito tutto questo passaggio alla volontà del PD di inventarsi nemici immaginari per avere un vantaggio politico, ora che si va al ballottaggio in alcune città importanti. In generale, comunque, la decisione di agire per decreto rimane un po' controversa, perché saltando il passaggio in tribunale, essendo la magistratura un potere dello Stato indipendente, rimane la politica, cioè i partiti, a condannare allo scioglimento altri partiti. E per quanto io sia d'accordissimo con questa scelta, in questo caso, perché in democrazia non puoi essere tollerante nei confronti di chi quelle regole non le rispetta, secondo me rimane comunque un passaggio un po' delicato, anche se forse è allo stesso tempo un passaggio necessario. Teniamo infatti conto che una narrazione molto forte in queste ore è che non servirà a nulla sciogliere Forza Nuova, perché domani si ripresenterà con un nuovo simbolo e sarà tutto come prima, visto che le persone che l'abitano non è che spariranno domani, non è che smettano di essere fasciste per decreto. Ed è vero, ma è anche una visione parziale, perché uno Stato che decide di fare quello che non ha mai fatto, cioè combattere seriamente queste organizzazioni, innanzitutto manda un messaggio ed effettua anche qualche arresto e vi assicuro che il quantitativo di persone che ha voglia di fare l'eroe si riduce drasticamente quando scompaiono i palchi e gli smartphone e si materializzano al loro posto le responsabilità delle proprie scelte e la possibilità di finire in manette, ma poi soprattutto il passaggio importante è questo, quello in cui si dice che non solo il governo sceglie i partiti, ma sequestra i beni che si intende liquidi e non liquidi, denaro e proprietà che non sono infiniti. E come per ogni cosa quando colpisci introiti economici fai danni giganteschi, realmente privando un movimento, un gruppo di persone di qualsiasi tipo della capacità di organizzarsi. E' quella la parte importante e la butto lì. In Italia ci sono anche altre organizzazioni neofasciste che non solo da tempo occupano i mobili dello Stato, ma hanno tutto un network attorno fatto di case editrici, brand abbigliamento e sotto organizzazioni. Lo dico così, eh? In definitiva, comunque, ci tengo a chiudere rispondendo a tanti di voi che mi hanno scritto in ogni dove, sostanzialmente suggerendo che questi scontri nascondessero la realtà delle cose, cioè gruppi di cittadini preoccupati o scontenti a vario titolo che manifestano pacificamente e che adesso vedranno i loro sforzi vanificati dalle gesta violente di alcuni. Addirittura si è già diffuso il complotto che quelli dentro la CGL non fossero davvero militanti neofascisti ma agenti della Digo simbolghese. Allora, va bene manifestare, ci sta tutto e capisco questo tipo di frustrazione, però dobbiamo un attimo farci una doccia di verità e ammettere che questi infiltrati neofascisti non fossero affatti infiltrati, non sono black bloc che si infilano in un corteo pacifico, è gente che letteralmente organizza e sale sul palco in queste proteste e dice la qualunque dalla vicequestore e dirigente del sindacato di polizia COSAP, ora sospesa, che fa il comizio sull'importanza di opporsi al governo dispotico, al magistrato Angelo Giorgianni che arringa il popolo dicendo cose sovversive sul rovesciare il governo e sulla necessità di organizzare un nuovo processo di Norimberga. Lui ha annunciato che lascerà la tocca. Ed è meglio che non torno sul tizio di io apro che si fa i selfie dentro la sede della CGL. Insomma, è abbastanza palese che gli scontenti del governo ci saranno anche, magari siete tra loro, ma dentro questi movimenti che vanno contro tutto è presente ogni cosa e anche un enorme tentativo di persone che sono lì per altri motivi e che in ogni luogo di scontento trovano un posto da presidiare politicamente. Quindi in piazza ci vanno i Novax, i No Green Pass, i commercianti, i fascisti, i complottisti, quelli delle cure magiche, i negazionisti del Covid. E non è che sono sempre infiltrati, sono strutturali a questi movimenti ai quali molti partiti di destra continuano a lisciare il pello da mesi e cercare di tenerseli buoni con un sacco di giravolte sui temi a loro cari. Quindi prima contro il lockdown, poi contro i vaccini, poi contro il Green Pass. È letteralmente sempre la stessa gente e dovremmo avere il coraggio di dircelo. Dopo vengono i cittadini scontenti e se siete tra quelli mi dispiace, ma non è importante solo l'obiettivo che io rispetto, è importante anche controllare chi siano i propri compagni di viaggio. E poi farsi qualche domanda. Bene, rimaniamo nella nostra penisola, ma dal fascismo passiamo ad argomenti più allegri e colloquiali, come l'obiezione di coscienza in caso di interruzione volontaria di gravidanza, perché durante il tredicesimo congresso dell'associazione Luca Coscioni, già nota per aver portato all'attenzione pubblica altre battaglie a meccare, tipo la legalizzazione dell'eutanasia o della cannabis, è stata presentata una raccolta di dati che per lo meno secondo l'associazione restituirebbero un'immagine delle quote di personale sanitario obiettivo nel nostro paese più accurate e reale rispetto alle relazioni del ministro della salute. Quindi passettino indietro sull'aspetto legale della questione e poi vediamo insieme perché questi dati sono particolarmente importanti, se confermati. Il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza è regolato nel sistema giuridico italiano dalla legge 194 che risale al 1978. La legge fa parte di un filone di azioni per i diritti femminili perché prima del 78 ad esempio l'adulterio femminile era un reato al contrario di quello maschile e la legge sul divorzio risale proprio al 70 che era sostanzialmente l'altro ieri giusto per ricordarci che certi diritti umani non sono riconosciuti da così tanto tempo anche se ora vengono percepiti come basilari. Tornando alla legge sull'aborto è composta da 22 articoli e se l'articolo 4 è quello che ne enuncia il concetto fondante cioè quello che tutti quanti citano sempre che stabilisce che la donna abbia diritto a terminare la gravidanza entro i primi tre mesi nel caso in cui avverta che la propria salute o condizioni economiche sociali o familiari siano in pericolo l'articolo più controverso è sicuramente il 9 perché è quello che regola i casi in cui il personale sanitario può a tutti gli effetti rifiutarsi di attuare la pratica abortiva. Questo significa nello specifico che il personale ha la possibilità di dichiararsi obiettivo di coscienza in teoria asserendo che la pratica abortiva è contraria ai propri principi personali e di essere così esonerato dall'effettuare la procedura. Ma perché c'è un ma e ce lo si dimentica sempre ci sono alcune clausole in merito. Innanzitutto l'esonero non riguarda l'assistenza pre e post intervento quindi banalmente puoi non essere presente durante l'operazione ma non puoi rifiutarti di assistere alla paziente nelle fasi preliminari e successive non è che la lasci a morire perché ha fatto una cosa che non ti piace. Inoltre lo status di obiettore è revocabile nel caso in cui questo effettui nel concreto la pratica cioè se chiedi l'esonero e poi cambi idea il tuo status da obiettore decade. L'aspetto più importante di questa legge sull'obiezione che è ovviamente frutto di un compromesso politico è che gli enti ospedalieri sono obbligati ad assicurare la possibilità di praticare l'interruzione di gravidanza anche attraverso la mobilità del personale da ente a ente perché lo stato banalmente dice tu operatore sanitario puoi avvalerti dell'obiezione di coscienza ma invece il sistema deve assicurare che il servizio sanitario sia garantito perché è un diritto anche eventualmente chiedendo al personale di altre strutture all'interno della regione di sostituire gli obiettori ma questo cosa significa? Significa che essendo la sanità una questione principalmente regionale l'obbligo di far rispettare questo delicato equilibrio ricade in ultima istanza proprio sulle regioni che quindi performano in modo diverso chi va bene chi va male e chi va come il Molise ovvero è celebre a questo proposito il caso di Michele Mariano ultimo ginecologo abortista della regione che dovrebbe andare in pensione ma non ci va perché senza di lui questa garanzia verrebbe a mancare ora come accennato prima il ministro della salute stila un'annuale relazione sulla quantità del personale in un obiettore e principalmente lo fa per monitorare la situazione e tra le varie altre cose riporta anche il numero e la percentuale di operatori sanitari regione per regione secondo i dati riportati nel 2019 che sono gli ultimi disponibili pare che la percentuale complessiva di obiettori in Italia sia del 67% tra ginocologi del 43,5% tra gli anestesisti e del 37,6% nel resto del personale sanitario ed è un po' qui la ciccia della questione nelle percentuali secondo i dati pubblicati dall'associazione Luca Coscioni risultati di una ricerca dell'accademica e saggista Chiara Lalli e della giornalista Sonia Montegiove i dati del ministero divisi per regioni sarebbero in qualche modo falsati o non rispecchierebbero lo stato attuale delle cose il rapporto infatti si focalizza non sul dato regionale dove invece si ferma la relazione del ministero ma su quello disaggregato sui singoli enti ospedalieri sulle singole strutture individuando quelle che rispettano la quota obiettori e quelle che invece non la rispettano hanno pure fatto il grafico su Google Maps ve lo lascio in descrizione indicando le strutture dal loro punto di vista non virtuose come un alieno mettiamola così vi dico già da subito che i dati sono incompleti perché alcune strutture non hanno risposto e il buco in Sardegna e Sicilia lo conferma ma tendenzialmente si parla di più di 40 strutture in cui la percentuale di obiettori è più alta dell'80% di cui poco meno di un terzo al momento in cui il registro perlomeno sono 16 hanno il 100% di personale obiettore non c'è nessuno non obiettore ora sia chiaro la legge non impone che tutti gli enti siano in grado di fornire questo servizio deve essere appunto garantito a livello territoriale ma la critica qui è sottile al come questo diritto venga in qualche modo ostacolato anche riducendo la scelta alle pazienti un esempio fatto dalla Coscioni per capirci è proprio quello del Molise secondo il rapporto del Ministero l'82,8% dei ginecologi sarebbe obiettore quindi 20 su 24 teoricamente preservando il diritto attraverso 4 ginecologi sulla carta insomma funziona tutto nel concreto però c'è un solo ginecologo non obiettore a tempo pieno che è appunto Mariano accompagnato da un'altra dottoressa che lo affianca a tempo parziale che significa sia che i dati del Ministero sarebbero sbagliati sia che il servizio non è poi così ben garantito dopo tutto ora qui ovviamente si aggancia a tutto un discorso che finisce per essere sempre lo stesso che si muove su un binario ideologico quelli che dicono che i medici se non vogliono praticare l'interruzione di gravidanza dovrebbero fare altri mestieri e quegli altri che rispondono che non è giusto obbligare un medico a praticare ciò che è da alcuni visto come un omicidio non si esce mai da questo impasse quindi io suggerisco sempre in ogni caso di spostare il discorso su una realtà più umana e pragmatica anche ricordando che c'è tutto un altro aspetto che si sviluppa dentro le strutture ospedaliere attorno ai medici non obiettori che è quello di un clima di isolamento lo dicono spesso il già citato Mariano in un'intervista a Repubblica aveva parlato di come la sua carriera a suo dire perlomeno sia stata sostanzialmente bloccata dall'influenza dell'università cattolica nella struttura in cui lavorava che è significato materialmente l'impossibilità per qualsiasi medico non obiettore di avanzare di grado e quindi guarda caso tutti diventano obiettori in ultimo dato che stiamo parlando dei diritti delle donne parliamo di Brasile perché il presidente Bolsonaro ha recentemente posto il veto il veto ad una campagna di distribuzione di assorbenti gratuiti a gruppi svantaggiati di ragazze e donne come senza tetto carcerate studentesse di scuole pubbliche perché no perché non mettere il veto su una cosa del genere e la campagna era parte di un più ampio pacchetto di leggi che avevano come fine quello di promuovere la salute mestruale combattendo la cosiddetta period poverti ovvero l'impossibilità economica di potersi garantire un'igiene adeguata durante il periodo mestruale che è una cosa che ovviamente accade molto più spesso nei paesi con forti sacche di povertà e in Brasile a beneficiare di queste politiche sarebbero state ben 5,6 milioni di donne 5,6 stupiti? non dovreste secondo un recente report delle Nazioni Unite infatti ben 713.000 ragazze brasiliane vivono senza avere accesso a un bagno e all'interno delle scuole circa 4 milioni di studentesse non hanno accesso a materiali come sapone o assorbenti costringendo tantissime studentesse a non poter andare a scuola per 6 settimane l'anno come fa notare Tabata Amaral una delle 34 deputate federali che hanno lavorato sulla proposta di legge che adesso è morta a pagare per le conseguenze di queste condizioni critiche e poi il ministero della salute in particolare per i trattamenti medici e per gli interventi nei casi in sorgessero delle complicazioni dopo che le donne in mancanza di assorbenti utilizzano per l'igiene intima altri oggetti come asciugamani o vecchi vestiti situazione che secondo Amaral riguarderebbe circa metà delle donne brasiliane la stampa nazionale brasiliana e anche internazionale oggi si è un po' occupata della vicenda principalmente per l'opposizione di Bolsonaro che ha bocciato la legge ritenendola contraria all'interesse pubblico e invece a favore di lobby non meglio specificate ma ovviamente tutto il discorso in occidente si riallaccia poi alle tematiche che da noi attraversano l'opinione pubblica in modo diverso ci sono ad esempio le spinte sempre in occidente all'abolizione della cosiddetta tampon tax cioè la richiesta che l'IVA ad esempio venga portata a zero sui prodotti per l'igiene intima femminile legati al ciclo mestruale un po' inutile dire ovviamente che tra questo però che si può fare non è che io sia contrario e la situazione molto più grande che riguarda i paesi in via di sviluppo c'è molta distanza forse la cosa più interessante da notare è come in un certo modo la nostra stampa poi cerca di ricondurre quei problemi cose totalmente diverse dalla realtà che viviamo noi poi alla nostra situazione siamo un po' ossessionati da noi stessi quindi quando parliamo di terzo mondo dovevamo parlare anche di noi e questo era tutto per oggi grazie per aver guardato se il video vi è piaciuto al solito vi invito a iscrivervi al canale youtube se ancora non l'aveste fatto così non vi perdete i video e a cercare il canale telegram dedicato alle notifiche lo trovate in descrizione ancora vi ricordo come sempre che il progetto è sostenuto da un sistema di abbonamento il Breaking Italy Club che finanzia tutto quanto e vi permette di accedere ad alcuni privilegi e contenuti speciali ci lavoriamo abbastanza sopra per darvene sempre di nuovi andate su breakingitaly.club per saperne di più era tutto fate i bravi grazie ancora ci vediamo domani ciao